La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo che il Governo e le istituzioni possono dare al mondo della ricerca. Vogliamo sostenervi, vogliamo agevolare il vostro lavoro e, ovviamente, senza ingerenze nel mio caso almeno, creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere, facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi laboratori sono un esempio virtuoso, e promuovere la cultura del merito con la consapevolezza che i risultati possono non essere immediati. Perché, come ci ricorda il Professor Parisi, il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltar fuori per caso e le sue applicazioni apparire in campi assolutamente imprevisti. La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi quattro anni destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi che si sono chiusi questa settimana, grazie Ministra, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieremo cinque centri nazionali, gli ecosistemi dell'innovazione territoriali e le infrastrutture di ricerca e di innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze. Grazie a tutti.